Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio recensire un nuovo prodotto. Ci tengo a precisare che tutti i video che farò per recensire i prodotti non sono video in collaborazione con le aziende, quindi non me li hanno mandati ma li ho acquistati direttamente io nei miei vari giri, nell'ipermercato oppure in vari negozi che ci sono qui a Bari dove trovo dei prodotti che penso possano essere interessanti per gli intolleranti al lattosio oppure dei prodotti per la cura della persona che sto utilizzando, questi prodotti ripeto non sono stati inviatimi dall'azienda ma li ho acquistati direttamente io. Sto parlando del dolcetto senza lattosio. Io ho scelto il dolcetto al cacao cream, quindi crema al cioccolato. È un prodotto lactose free, non lattosio. È una merendina piccolina pesa 25 grammi. All'interno della confezione ci sono 8 merendine e vi leggo gli ingredienti. farina di frumento, zucchero, uova fresca 16%, sciroppo di glucosio fruttosio, acqua, oli e grassi vegetali non idrogenati, palma, cacao magro in polvere 3,3%, stabilizzante sorbitolo, che cavolo è il sorbitolo? Sorbitolo, albumo ed uovo in polvere, aroma naturale vaniglia, emulsionante, mono ed griceridi, degli acidi grassi, gelificante, agarar, agenti lievitanti, di fosfato di sodico e carbonato acido di sodio, sale. Può contenere tracce di soia e frutta a guscio. Prodotto in Italia. Conservare il luogo fresco e asciutto. Questo prodotto ha una lunga scadenza. scade nel 2017, ma io questo l'ho comprato circa due mesi fa, quindi marzo 2017, io l'ho comprato a novembre, una scadenza abbastanza lunga. È un prodotto italiano della marca Freddy. Non si trova nella grande distribuzione, o perlomeno io non l'ho trovato all'ipercopo nei grandi ipermercati, ma l'ho trovato in un piccolo negozio che vende prodotti dolciari. E allora, Product of Italy, c'è la bandiera italiana. Vi faccio vedere all'interno come sono le merendine. Ci sono appunto otto merendine separate confezione per confezione. È appunto una merendina da 25 grammi ed è esattamente come quella che vedete qui sul disegno. Come gusto è un gusto dolce, ma non eccessivamente dolce. Assomiglia, se possiamo fare un paragone, al tronchetto, com'è che si chiamava la merendina del mulino bianco? Trancino? Quella così. Trancino. Questo tipo di merendina, se vogliamo fare un paragone con una marca più famosa e quindi con la mulino bianco, assomiglia al trancino, anche come forma. Ricorda molto il trancino. Ho scoperto queste merendine guardando un spot pubblicitario in tv e sono andata alla ricerca. Diciamo che la ricerca non è stata molto semplice, in quanto io di solito acquisto le merendine o comunque i prodotti dolciari di questo genere nei grandi supermercati. Non le ho trovati né all'Ipercop né all'Ocean. Un giorno per caso invece mi sono recata in un negozio di dolciumi qui a Bari e ho trovato esattamente questa marca. Esistono altri gusti di questo tipo di merendina. Esistono altri gusti di questa merendina, oltre alla crema al cacao e sono alla frutta. Ho già avuto modo di provarla come merendina e posso dire che è un ottimo spuntino che può aiutarci a mezza giornata oppure nel pomeriggio. La mia recensione termina qui. Vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social o comunque li trovate qui in sovraimpressione. Mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e alla prossima. Ciao!